perca puttana guarda cosa sta diventando la nostra base poi dopo dobbiamo mettere un pezzo di carbone in tutte e accendere ok facciamo una bella foto dall'alto se posso fare io nel mentre infatti gli stecchini ne ho tre c'è un player c'è un player c'è un player è armato ma dove qua qua in base fuori si lo vedi l'ho vista non lo vedo più ha provato a saltare sui bidoni a entrare vai qua che gira sta girando la base? si si è qua che gira fuori eh ma che pezzo di merda se in attimo raga eh e tu aggiornami è dentro è dentro è qua è qua salta col cancello? ah si si il primo si adesso è dentro non so come vi abbia fatto a entrare però dentro la vostra base? si si è il primo piano dentro cazzo è lo spark vuoi vedere adesso quanto si fa male figlio di puttana con tutti gli spini che ho messo e tu come lo stai guardando? terza persona guarda sotto però non so come faccio ad uscire adesso sinceramente tu dimmi se esce eh? eh non te lo so dire l'unico punto in cui puoi uscire è qua ancora qui comunque sotto sicuro adesso gli loggo in faccia loga sotto e sotto proviamo a gioarmela poco qua sotto e qua sotto che gira lo sento è fuori dalla base eh? si si è là è là è lichinato lo vedo posso sparargli forse da qua è fuori dalla base o dentro? è dentro il primo base è dentro al primo stadio ed è armato occhio mazzo occhio sei tu mazzo quello? ma che è sotto lì occhio è dentro eh? occhio mazzo ti impura posso stare in cima alla montagna se riesco a sparargli eh? è bravo vai 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 io ti guardo se magari lo vedo uscire che ci hai matto? lo vedo ah ti vedo là in alto ok è sotto è sotto la base proprio non so lo stia facendo ah cavolo se è sotto allora gli loggo in faccia io non l'ho più bene non ti conviene è qua sotto il figlio di puttana beh può uscire solo da qua dietro perché almeno qui dietro ci sono già dei bidoni su cui potrebbe far leva uscire se dovesse uscire allontanarsi io comunque al fucile al cecchino potrei sparargli in schiena vediamo adesso oh sloga qua ora? si si è qua perché lo zombie punta dove è lui guarda lo zombie vedete lo zombie dove va? zombie è qua sotto avesse qua sotto lui ma lui è entrato qui tranquillo senza come niente eh beh è scavalcato ci sono due fornace all'esterno ma da di vedere sopra cosa abbiamo fatto io e mazzo ho sentito ho sentito ho sentito ho sentito ho sentito ho sentito lo vedo lo vedo anche lo vedo aspetta eh headshot ucciso l'ho preso in pieno l'ho ucciso grande cazzo figli di puttana così impari a rompere il cazzo al mio socio eh logga e va a prenderli con l'altro pg no? te logga ma ti è mai lato sotto eeeh non so cosa dirti cazzo che headshot gli ho fatto gli vedevo gli vedevo si si gli vedevo solo la testa solo il testulino gli vedevo gliel'ho staccata proprio perchè l'ho visto cadere col fucile che saltava sai no quando cadi indietro lanci l'arma adesso vuoi vedere l'altro cosa fa? dov'è? chi è? cosa sta facendo? eh? stile di cazzo? boh uno dovrebbe provare a loggare a vedere se dai sacrifico il pigetto una fortuna ozilom ha visto l'osin? ok son bambi proprio è mezzo morto lo vino con questo per loggare quello che avevo portato lì per fare da da pirla lontatore e allora vabbè ti immolerai per noi spero di non sbagliare il principio che altro mi sembra questo ok il tipo che ho ucciso era quello che era qua sotto e come fai a esserlo? eh non lo so dai prova a loggare e poi mi dimmi se c'è qualcuno se no poi ah se senti sparare è un direct si si ovvio ma se riesco di uscire vado sopra nel fucile a pompa si 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 ti dico dov'è si si beh però ricordati di chiudere il cancello eh tipo si è pigliato una cicchinata nei denti gli vedevo solo la testa cazzo minchia che tiro chi è che salta? io io c'è qualcuno? non vedo altissima non vedo nessuno io ok allora esci dalla base vai sulla montagna eh ma che dici che avevo sloccato qua? può essere dai dai chi se ne frega mazza se vuoi entrare con l'altro pg entra no eh cazzo me ne frega solo le devo riportare pg lì è pieno di spine io come faccio uscire? vai corri alla porta aprila e esci dai qual'è la porta? non la vedo più ma come cazzo? ma dov'è la porta? non è al solito posto ma è pieno di spine ma è pieno di spine certo che è pieno di spine l'ho fatto apposta quanto c'è andata da altra parte della porta? vai aprila e esci al volo devi fare una roba veloce c'è un punto dove non ci sono le spine devo uscire io ad aprirti aspetta eh se li essi sono in panico panico dico ma che non ti shottano eh quei cosi vabbè tranquillo vai dai ti shottano mordo vai su vai su guarda guarda me guardami guardami si? guardami la la in alto quanti zombie ci sono? la in alto vicino vai su vai 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 su vai su e costeggia costeggia il 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 burrone così ti dico tu costeggi tutto il burrone e vai su vedrai che trovi trovi due sacchetti sicuro un è mazzone e l'altro il pirla che ho seccato pieno di zombe porco giuda e beh c'è il tipo che gli ha sparato a mazzos dimmi te più o meno eh non ti vedo eh se non ti vedo non ti vedo sono sopra sono su ok sono qui no troppo lo zombie ci sono che cazzo sei? aspetta estremità più alta o c'è l'intermedio? intermezzo intermezzo ah ok allora forse ho capito dov'è intermezzo vicino vicino più vicino alla base qui? guarda no 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 più indietro minchia non è lì ma così non è più indietro molto più indietro molto più indietro sto facendo un volo allucinante si ho visto molto più indietro veloce che la roba sparisce eh eh mi sono incassato la cosa di salire molto molto più indietro se no vengo io a sto punto c'è no 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 che magari ritornano i tizi quali secondo me sono lì dentro eh anche secondo me l'unico problema è che sono in starving stai vicino al 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 precipizio così meno ti vedo caspiterina è più vicino di così ci sono aderente ti vedo ma se mi vedi di comparire oh c'è un altro player qua non è uno zombie ecco vai 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 giù vai giù lì a sinistra dovrebbero essere più giù c'è una piccola discesa e poi lì su a sinistra lì ho visto uno zombie lì più su più su più su lì vedo gli occhetti eh eh lì eh mi riesce a uscire lo zombie qualche modo eh se me lo tiri verso se lo tiri... ecco bravo tirolo verso lì stai fermo fermo eh fermo eh sto brondando sangue l'ho ucciso? no no ah fatto basta dai vendati fatto qual è quello di massa? prendi tutto quello che riesci a prendere mettiti uno zainetto in spalla tu tira fuori la pistola dal mio e la fucina pompa dal suo poi al resto ci pensi con calma cazzo di nuovo zombie ma è pieno di zombie non riesco a far nulla tira fuori la pistola e comincia a sparare eh non riesco mi hanno... ce ne sono tantissimi sono tutti qua guarda sto già rimorendo di sanguata cazzo che ansia corri intorno allontanati e poi ritorni che? è comparso uno dal nulla è comparso uno dal nulla parco dio è comparso uno dal nulla te lo giuro e sarà alloggato che ti devo dire come ha fatto? oh sarà alloggato lì osilon tranquillo ah ma... non è un cheater lo so ma mi è spuntato da sotto i piedi ma prima ha spostato me io non so se ti sei beccato la scena no no non vedo niente da qua se sei troppo in dentro in sostanza io ero lì che mi stavo bendando e mi è comparso da sotto i piedi looser Jacko looser we'll see you soon man have fun Jacko with your report ban have fun bye bye